E' un'altra parte. Ha tirato col sinistro. Helmas se la porta in avanti, ma il cross era molto forte, non riesce a controllarla bene, quindi allontanano i difensori. Ma bene, come era Lozano, il pallone finisce a terra, l'armino lascia correre. Fabian! gol 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 sinistro vicinale Fabio Ruiz porta in vantaggio il Napoli alle dici al diciassettesimo minuto di gioco Napoli 1 Bologna 0 Fabio Fabio Ruiz Tocco quindi per Mario Rui, corto per Insigne, centrale per Anghissà, il tiro fuori. Ci ha provato Anghissà, aveva un po' di specchio della porta davanti a sé e ci ha provato. C'è il rigore, e c'è il rigore infatti, viene concesso. Quello di mani, Lorenzo, la rincorsa, il tiro, gol, 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 gol. Gol dagli undici metri, il capitano Lorenzo Insigne segna il gol dal 2 a 0. Napoli quindi che raddoppia al quarentunesimo. Insigne riceve l'abbraccio di tutti i compagni di squadra. Osimène blocca la palla, l'arpione la perde, poi finisce a terra e l'arbitro dice rigore, rigore. Parte Lorenzo, la rincorsa, il tiro, gol, 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 Lorenzo, cecchino dagli undici metri è ritornato ad essere implacabile sui calci di rigore. Napoli 3, Bologna 0. Palla per Anghissà, vuole tirare, lo fa, traversa. Traversa, che tiro dai 22 metri, Anghissà, traversa con Skorowski battuto da una conclusione pazzesca. Il servizio dalla destra, il cross per Osimène di testa a Skorowski. Si tuffa la sua sinistra, riesce a bloccare. Finisce qui Napoli-Bologna 3 a 0. Ciao!